Professor Fornasin, demografia e territorio, l'officina di cui lei si occuperà in questo progetto, un tema molto caldo, molto importante? Sì, beh, decisamente. Qualcuno ha detto che la demografia oggi è il principale dei problemi della nostra società. Io, come ho già detto anche prima, quando parlo di demografia non mi piace usare la parola problema, però certo ci sono delle situazioni, ci sono delle tendenze, ci sono delle modifiche, dei passaggi storici che non possiamo non tenere in considerazione, che vanno gestiti e governati. Quindi, certo, la demografia comunque non sarà un problema, ma è sicuramente qualcosa di fondamentale per la nostra, come per qualsiasi società. Interpretare, leggere le tendenze demografiche su chiave territoriale, come farà la nostra officina, cercare di vedere, anche in prospettiva futura, quello che succederà, quali saranno le trasformazioni a cui ci stiamo avvicinando, serve per capire il Friuli e serve anche, indubbiamente, per cercare delle soluzioni e delle criticità che inevitabilmente in ogni percorso storico si sviluppano, si creano. Friuli, che è stata terra di emigrazione, che adesso è anche terra di immigrazione, quindi anche più fronti su cui focalizzare poi l'attenzione. Sì, beh, indubbiamente. Oggi l'emigrazione è uno dei grandi temi. Il grande tema è, certo, l'immigrazione, e quindi ci troviamo di fronte a flussi, tanti flussi di tante persone diverse, che vengono da tanti paesi del mondo diversi, ma ci troviamo anche di fronte a dei flussi migratori in uscita, che erano tanti anni che noi non conoscevamo. Il Friuli è cominciato ad essere regione di emigrazione, quando cioè il bilancio migratorio è stato positivo, nel senso che erano più gli immigrati che gli emigrati nel corso degli anni 70. Adesso, certamente, i flussi migratori in entrata sono importantissimi, ma sono ripresi, hanno ripreso a crescere anche quelli in uscita. Hanno caratteristiche molto diverse da quelli che conoscevamo nel passato, non troppo diverse però. Quindi anche un grande lavoro di analisi voi naturalmente dovrete fare. Sicuramente, alla base di tutto c'è l'analisi. Contiamo però, io e i miei colleghi, Zacco, Mare e Guarandi, mettere a disposizione di tutti anche degli strumenti, a disposizione delle altre officine, per poter operare, per poter cercare delle soluzioni e quelle sfide che ci attendono. Come tempistiche che cosa vi siete posti? Noi contiamo già alla fine dell'anno solare di produrre alcune prime semplici analisi, insomma, alcune prime semplici prospettive. Con i primi mesi dell'anno successivo contiamo di affrontare i temi più, come dire, difficili anche dal punto di vista tecnico. Che saranno quindi? Ebbè, oggi abbiamo parlato, abbiamo sentito parlare della disponibilità di grandissime basi di dati, che però al momento sono poco informative. Qui ci vorranno competenze specifiche per l'utilizzo di questi dati e per farli realmente parlare. I dati sono tantissimi, dobbiamo solo riuscire a recuperarli e a trattarli e a leggerli nella prospettiva che ci siamo imposti.